essere o non essere questo è un problema di ciò che deve essere oppure che non deve essere una domanda molto ignota diciamo una domanda molto molto significativa che ovviamente bisogna capire da dove si svolge tutto 628 iscritti mi raccomando faremo un video nuovo un video nuovissimo vedremo un po' le caratteristiche fisiche di ogni personaggio partita singola partiamo partiamo subito sci sci ma lo mette uno a caso ah ecco qua partiamo dai tipi di potenza come possiamo vedere clunkless a una velocità pari a 3 potenza 4 quattro abilità eh facciamo un commento sui personaggi ah ok commentiamo personaggi eh però devi pulire salve eccola qua è vero brava signori allora commentiamo allora questo qua diciamo quelli che ci piacciono quelli che ci piacciono allora questo qua è carino si può fare si può fare allora si può fare diamo anche un voto esatto brava è un bel voto a tutti personaggi mi piace mi piace come idea guardate 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 c'è un video alternativo è proprio intuitiva la mia la mia che merita allora partiamo subito con il primo che si chiama clunkless questo qua è bellino mi piace non so se vengo pure io quindi faccio così allora questo ha una velocità pari a tre una potenza bella velocità bella potenza bisogna l'abilità un po' rovinato perché sta l'abilità quindi i salti non li sa fare questo esattamente i salti sono un po' rovinato con l'abilità con la resistenza questa bene allora facciamo un voto di bellezza e diciamo cioè come se ci piacciono come tipi esatto come tipi è il totale della bravura diciamo allora mi piace cioè è carino non è proprio allora io premetto fatto mai cattivi non mi piace questo non so se è vero cattivo oppure no non ho mai capito cioè non è bravo questo credo sia bravo un tipetto bravo credo ma possiamo controllare non ne ho proprio chiedere se è un tipo buono o attivo se fa parte del mondo di sonic pensa bravo che sono bravo che c'è sì bravo magari è un rivale di Mario tipo Shadow comunque è come l'eterno rivale è tipo come Goku e Vegeta che cerca sempre di Sony è il fratello è il fratello però vuole sempre migliorare è un po' tipo Vegeta vuole sempre superare Goku vediamo un po' personaggio immaginario vediamo un po' se è buono o cattivo questo è il nemico di Mario come antagonista è tornato giocabile in Sonic è diventato successo ok è un antagonista quindi un cattivo ma è cattivo ragazzi è cattivo è cattivo vediamo ma è il nemico di Mario o di Sonic ho detto Sonic vediamo è un personaggio immaginario appartenente alla serie introdotto per la prima volta in sega come antagonista è tornato come giocato di Lavo se è veniva conne del frangano allora è un gran successo oh ecco qua vedi apparendo più di qualsiasi altro personaggio descrizione no biografia descrizione aspetto poteri abilità personalità escorbutica e testardo ma si batte per i suoi amici se questi sono in pericolo in particolare il clone clown rapporto di amicizia con Sonic allora è bravo quindi è bravo però in un videogioco è diventato antagonista rapporto di amicizia con Sonic quindi è bravo bravino vai quindi di bellezza gli diamo oh è bellino qua io ti ho 6 ah io ho un bel 7 oh 7 invece come potenza e abilità di tutto cioè come bravura in generale in generale 7 un 7 pieno ce lo da volentieri io ho 7 e mezzo addirittura 7 e mezzo partiamo con il prossimo allora Bowser allora Bowser la velocità è sappiamo che questo è il cattivone di Mario allora quindi 0 ma velocità 0 è 1 potenza assurda tiene solo potenza e resistenza potenza e resistenza quindi è molto buono nelle corse a lungo a lungo termine quindi dei 400 metri oppure le rendo da solo ma velocità tiene 0 ma tiene una grande resistenza e non vuole mai la potenza pure esagerata abilità un po' scarsa diciamo che rispetto non è pure come personaggio non è proprio uno dei migliori no per niente meglio quello di prima infatti quindi di bellezza 0 abbiamo 5 0 addirittura 0 la nostra carissima gamerina è cattivissima io lo odio diciamo che come abilità 4 4 4 si 2 4 proseguiamo sappiamo comunque la sua storia adesso vediamo Bowser è cattivo infatti a me non piace per niente Vector allora Vector io non so precisamente mi ricordo che era un cattivone di turno della saga comunque di Sonic però però Vector vediamo un po' personaggio del coccodrillo allora penso anch'io penso anch'io allora è un personaggio immaginato principale della saga videojogica Sonic vediamo è un coccodrillo ovviamente disponibile per scettare insieme ai suoi compagni qualsiasi buon offerto di lavoro e quindi diventa un personaggio popolare amato nella serie tanto da diventare uno della serie di giro a parire ok creazione e sviluppo non ci interessa vediamo aspetta personalità Vector affidabile e affabile ah affabile mamma nascondono un animo buono e generoso ass capisce il momento in cui bisogna scherzare e quando bisogna fare i serie anche se non sembra vuole molto bene ai suoi amici Sonic 6 si presume è proprio qualcosa per vanilla la mamma è buono o cattivo quindi è buono ok ragazzi quindi è buono Vector molto convinto che era in cattivo allora è buono è già questo già questa è una cosa favore non era facile sì perché fa parte del team di Sonic allora sì allora è top Vector perché in un gioco è riuscito a dare del tempo a Sonic per battere poi il dottor quindi totale bravo Ura dove si fa no B è bello non fa la stessa cosa allora come possiamo vedere il personaggio è 1,5 un po' più veloce di Browser potenza un po' di meno rispetto a Browser ma di pochissimo cioè in poche parole l'aggiunge nella velocità e nell'abilità ma ne perde nella potenza e resistenza quindi è proprio uguale a Browser quindi di totale gli diamo 4 come Browser 4 infatti e di bellezza diciamo 3 un po' un coccodrillo quindi un coccodrillo un coccodrillo 5 io 5 e Anna vita 3 proseguiamo con il nostro carissimo antagonista nemico di Mario rivale rivale non nemico di Mario esatto rivale e quindi non mi piace per niente velocità 2 potenza 4 abilità 1 resistenza 4 massima no 5 ah no 5 scusate 5 vabbè mediocre mediocre a livello un po' superiore di Vector e Browser ma giusto di poco quindi 5 e se l'aspetto estetico 0 aspetto estetico oppure a me non è che mi piace più di tanto quindi ci diamo un 3 sì ma li vedete proprio quelli là belli di bella presenza forti e quelli invece allora questo come possiamo osservare è tipo potenza sono tutti i tipi di potenza quindi bene o male sono forti e cazzo lo serviamo quelli completi allora vediamo i completi quindi quelli che hanno tutto quello che hanno tutto e partiamo dal preferito della nostra carissima game rina Mario velocità 3 potenza 2,5 abilità 4,5 resistenza 3 ah giusto 3,5 scusate 3,5 e resistenza 3 diciamo che è un personaggio completo a tutti gli effetti ha un po' di tutto principale della saga è il mio preferito il suo preferito gli diamo 10 di bellezza dalla parte della game rina dai ce lo diamo anche lui 10 per farla contenta dai diamo un 10 per accontentare e poi perché ci sa fare è un ottimo personaggio proseguiamo ah il totale della bravo diciamo che comunque ha tutto quindi un'ottima e mezzo ci do io io ho pure otto e mezzo cioè è completo alla fine gli effetti ha un veramente tutto proseguiamo cioè me è molto meglio tipo di bowser vabbè sì che magari ha un po' di tutto quindi riesce a fare qualsiasi cosa sì esporto bene male Amy Amy questa è la fidanzata se non mi sbaglio di Sony molto carina carina e piccolina la topolina allora velocità 3 quindi è come Mario 2 di potenza vediamo ah la potenza Mario ne ha un po' di più un po' di più di potenza poiché maschietto hanno la stessa abilità e la resistenza un po' maggiore quindi è un po' meglio addirittura è un po' meglio di Mario incredibile è un po' meglio di Mario però solo di resistenza no di resistenza resistenza ah solo di resistenza no di resistenza lei è meglio di Mario eh però di potenza però di potenza Mario è ne perde nel mezzo cioè in poche parole il mezzo di potenza di Mario si toglie a Amy mentre la resistenza si aggiunge ah beh però quindi alla fine sono simili come personaggi quindi gli diamo 8 io ci dovo da 8 dai è un bel 9 inizio 9 mentre di bellezza diciamo comunque mi piace quindi 9 9 allora Luizino il mio preferito ragazzi il mio preferito Luigi molto meglio per notare come l'ho scritto Luigi molto meglio Mario ovviamente ovviamente meglio il caro Luigi ragazzi addirittura è uscito un gioco proprio a parte per lui tanto che è importante nella serie è più importante Mario è uscito un gioco per lui allora possiamo osservare velocità allora più veloce Luigi di un m no di mezzo come sempre la potenza ne perde un po' ok poi l'abilità è uguale la resistenza uguale no la resistenza è sicuro uguale quindi in poche parole la potenza di Luigi si toglie quel mezzo e gli va in velocità mentre il caro Mario toglie perde la velocità e guadagna di potenza quindi sono simili a tutti gli effetti quindi gli do 8 e mezzo anche a Luigi 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 che non so ci scriverà Luigi allora beh il complesso insomma è un personaggio completo quindi 8 di bellezza a me piace tanto caro boffetto più bello Mario vero che magari possono pensare che siano simili però sono simili ragazzi sì però la voce c'è il complesso in tutto c'è Luigi no c'è una voce un po' Mario e maschi quindi quando ci puoi dare Luigi 5 met mamma mia l'ha trattato insomma ragazzi l'ha trattato vediamo questa è l'infame questa è l'infame questa è l'infame perché è cattiva non lo so onestamente ma sembrano tutti buoni questi qua di Sonic per me se ne sta solo uno di cattivo insomma cioè lui contro tutti di Sonic d'Orto Reckman suddista è mai possibile lui contro tutti no Brazio penso che è bravo però allora questa è meno antipatica perché lo sapete perché perché nell'ultimo episodio con Luigi non riusciva a spoggerla vabbè ah però cioè davvero era impossibile però è il mio più bellino sì molto molto più bella sì bellissimo descrizione è una regina abitata della dimensione solo parallela al mondo di Sonic no mettere oh mettere il mio carattere descrizione creazione aspetto è una gatta di 95 centimetri ho dei capelli lunghi color lavanda poteri abilità non ci sia personale dimostra inoltre di possedere un carattere tranquillo controllato e timido sorprendentemente tende ad essere serie ma alcune volte sorride in Sonic riusci all'inizio è il rivale di Sonic attenzione ah il rivale di Sonic ma poi diventeranno amici ah ok ok però diventa come vedete go più vale con un po' incredibile quindi si si sistema dopo si sistema dopo il suo miglior amico è Silver chi lo conosce non lo so allora io direi di fare un bel compito tra Amy e Blaze allora Amy e Blaze ok allora è un po' più veloce veloce esatto un po' più potente ne perde le abilità resistenza è simile quindi prima c'ho dato 8 e quindi ci do 8 un altro 8 8 esteticamente bellino pure tu 8 della potenza totale si 8 8 8 pure di bellezza e di bellezza gli do 7 questi sono i completi ragazzi allora andiamo avanti Sonic best e partiamo con i tipi di velocità Sonic anche il protagonista ovviamente del mondo di Sonic mi piace molto velocità 5 è tipo come mi piace mare per il mio preferito anche Sonic no meglio Sonic allora Sonic un bel 10 di bellezza sì io ci do 8 poi come complesso diciamo complesso velocità ma un po' un pezzotto come questo altro diciamo perché ti ha molto di velocità e resistenza 0 quindi ci serve pochissimo se va ben poco la velocità perché in un campo per esempio 400 metri si stanca velocemente perché giustamente più velocità e più devi avere anche un po' di resistenza sennò muore vabbò te ne ha un po' di potenza pure c'era ma io gli do 7 più del 7 Daisy Daisy ah ok se andiamo su un personaggio abbastanza umile dai diciamo velocità brava brava ragazza brava ragazza ragazze sono commenti tecnici allora velocità 4 sta bene un po' potenza solo sta un po' male esatto perché di abilità resistenza sta benissimo diciamo quella potenza che gli dà problemi tecnici quindi gli do un 7 e mezzo io 7 e mezzo 7 e mezzo di bellezza gli diamo 9 9 io ti si è bella ragazzi 8 è la principessa 8 e mezzo 8 e mezzo è la principessa di luigino insomma ma io piccio ma lo fa chi ah ma fai il sondaggio per chi preferisce tra vince il sondaggio perdi il terzo sondaggio dovete sapere voglio fare anche gli ho scelto un po' no tra i cittadini piacciono tutti i tuoi all'uomo di luigi no non mi interessa se due e dice di odio c'è due quindi non mi interessa non mi interessa allora dovete sapere che mi ha fatto un bel sondaggio tra Mario e Luigi perché io preferivo Luigi li preferiva Mario no ho detto una scimità io preferivo Mario li preferiva Luigi in un testo ma ovviamente ha vinto Mario che è molto meglio di Luigi e poi abbiamo fatto un altro bel sondaggio tra Sonic e Shadow perché ho preferito Sonic e il preferito Shadow ovviamente ha vinto Sonic quindi è già la seconda volta che vincono i sondaggi non c'è due senza tre quindi può darsi anche che vinco il sondaggio tra Peach e Daisy l'istodio di un'altra scoprice a cura insomma ma non è vero passiamo avanti Shadow il mio preferito ragazzi dal mondo di Sonic oh guarda che alla fine è un po' come so guarda oh Shadow è peggio di Sonic perché? tiene un e mezzo di resistenza mamma mia è una chiave che non è resistenza Sonic tiene due completo vedi un po' l'abilità che ti ha capirai vero è un po' più è meglio e quindi se ho a Sonic mi ho dato 7 a Shadow gli do 6 e mezzo 6 e mezzo infatti esteticamente 10 vabbè bellino però anche se invece di Sonic guardiamoci che è il fratello di Sonic quanto ho dato a Sonic 10 quindi gli do 8 e mezzo ultimo personaggio quello che non utilizziamo mai io ho scelto ma io ho scelto come fa essere riduce scusa io ho scelto un draghetto io ho scelto abbiamo mai utilizzato in questo gioco ho detto ho scelto utilizzato ma io ho scelto però ho scelto vabbè semplicemente è molto cucciolo a me è sempre piaciuto Yoshi quindi a me è sempre stato simpatico i do 8 i do 8 tutti gli effetti io 9 un 8 bello vino di potenza cioè di totale diciamo sicuro è a livello di Daisy secondo me vedi un po' i confronti ma dovrebbe essere a livello di Daisy tiene pure un po' di resistenza perché tiene la resistenza e la purtroppo poiché tiene la velocità maggiore la resistenza che è troppo poca non va bene non va bene a contrasto io come me io le do 6 quindi 6 6 ok è un personaggio che merita 6 allora ultima tipo abilità Piccio allora Piccio mi piace molto sto anche se stanno conquaiati con potenza e resistenza potenza di un e mezzo potenza un e mezzo è meglio che proprio non si muove ma è quindi non è proprio invece di si veda anche in mezzo è proprio utilizzabile come personaggio tiene pure più più poca resistenza di Daisy ah ma mi sa come si ne è molto abilità anche se il tipo di abilità era strano se poi non aveva l'abilità diciamo che come personaggi di bellezza di do a desigio dallo 9 quindi allecita 7 la più bella che c'è tra l'unico io erano io erano 9 di abilice di totale ma è scarsa è scarsa non fu solo per quella abilità e quella velocità 6 6 6 micetto toys questa è carina una volta una potenza pessima allora è una velocità pessima una potenza pessima ma un'abilità una resistenza alta quindi il fatto della velocità o è troppo bassi troppo ma è vero è un cucciolino però è stranamente anche a me quindi un 8 di 9 8 come personaggio diciamo che fa parte del complesso il complesso potrebbe essere abbastanza ma è molto male ma magari sempre nei sport di abilità quindi 6 più anche di resistenza potrebbero cioè lui potrebbe tenere a testa colpa la gara a una gara veloce chissà 6 e mezzo sì un 6 e mezzo pure sono promettente vediamo il prossimo wawigi che lo abbiamo utilizzato prima ragazzi è stato un intimo con lui di giocarci allora vediamo a velocità ecco perché prima della velocità non ci riuscivamo ti ho detto che la velocità corre malissimo te l'avevo detto corre malissimo ed ecco l'avevo subito intuito infatti tiene 1 e mezzo potenza una chiave rispetto a wario wario tipo la potenza è pare che era 5 4 abilità si si vede perché nei salti davvero faceva cittadini esistenza resistenza ovviamente alta anche infatti si mi sembrava infatti non si stancava mai nella corsa se ci faceva era l'unico che non si stancava però non corre non ce la faceva no correva proprio malissimo è perché la velocità non deve essere nei mezzo deve essere triper essere perfetto è un personaggio perfetto alla fine se non fosse per quella velocità perché la potenza ci sta la potenza alla fine sono due gli sport di potenza il giavellotto e il lancio del martello quindi alla fine la potenza non è che interessa molto diciamo 7 dai ce la posso dare 7 di bellezza non è non è proprio non è top model ma nemmeno bruttissimo quindi 2 e dottor ergman il cattivone ovviamente del mondo di sonic velocità buona potenza negativa contando che un colosso potenza resistenza infatti potenza resistenza potenza resistenza mi aspettavo qualcosa di più abilità buona e resistenza diciamo pessima pessima sì perché un po' a 3 e mezzo ma sicuro è a livello di valuigi quindi 7 6 e mezzo 6 e mezzo bellezza 0 0 ma quanti 0 abbiamo visto e gli do 2 anche a lui e quindi si termina così ovviamente il nostro video del nintendo ds di mario e sonica e giochi olimpici dal 2007 grande gioco bellissimo questi sono i personaggi che abbiamo ovviamente visto e rivisto bene ah volevo fare un commento che secondo me è sempre meglio prendere Mario come personaggio possiamo concludere dopo questo è sempre meglio scegliere no perché è un personaggio completo quindi così Mario anche Emi per esempio perché sono dei personaggi completi e comunque sicuramente ritrovi bene perché riesci a fare un po' tutto allora no io proporrei per esempio personaggi tipo come Clues quello là di tipo potenza se volete scegliere un personaggio di potenza eh però quello completo capito puoi fare tutto eh lo puoi fare tutto sì è vero però poi i circuiti come avete visto erano un po' suddivisi a volte no e che tipo c'era da forza magari in quel in quel momento oltre alla corsa ce ne stavano altri tre di velocità o tipo via via mare non riuscivi a svolgere che magari tenevi contro Sonic Shadow eh vabbè dipende pure quindi devi guardare allora se volete scegliere un tipo di potenza vi consiglio ovviamente il personaggio russo quindi lui mentre completo Mario Luigi Mario di velocità vi consiglio Sonic io desi vi consiglio non shadow così desi la vedo meglio rispetto a Sonic tra l'altro e mentre tipo di abilità o pitch oppure tools il gattino che non era male non era male diciamo il resto meglio non utilizzare poi se vi piacciono li utilizzate a vostro piacimento il gioco si può terminare anche con gli altri personaggi ovviamente non è di dipende voi dovete acchiappare dei personaggi un po' più scarsi nelle altre gare solo così potrete vincere e che dire grazie a tutti secondo me il migliore rimarrà sempre lui Mario io adoro Mario un po' più